Fepti è il primo pantalone d'acqua, cioè le strisce sono in questo momento i principi attivi che sviluppano micromassaggio frizionamento, amplificati dalla presenza di una crema particolare che adesso Linda vi presenta. Il Siner Gel Lipolitico Fibrolitico è l'unico gel che si può applicare prima di andare in acqua. Basta una piccola quantità di gel per andare a lavorare sulla circolazione, sulla diposità, sulla cellulite e sulla ritenzione idrica. E' grazie al movimento ampio e fluido che il pantalone agisce direttamente sulle gambe. Infatti, attraverso questo movimento ampio, le strisce si appoggiano e si staccano in modo continuativo sulle gambe creando micromassaggio e frizionamento. Questo diventa straordinario per amplificare e stimolare il torrente microcircolatorio. E' bene ricordare che per stimolare la microcircolazione è bene fare movimenti ampi e lenti. Grazie. Grazie. Grazie.